Tu come ti chiami? Tu come ti chiami? Tu come ti chiami? Tu come ti chiami? C-Papa, come ti chiami? Mamma, 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 famiglia, quanti, quanti, quanti famiglie? Mamma, 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 mam Cos'è? Vig, Vig Sì Cos'è? Vig, due Dom Dom Sì 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 Liss Liss Sì 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 Liss Liss Lingua Italiana Sì Prima età Prima età Capito Ok L'accordo Capito Sbagliato Giusto Giusto Come si dice? Buono 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 Mangiare Buono Parlare bene Buono 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 Alena Segn Please Buono 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 In effetti Io sto imparando adesso ad approcciarmi con il linguaggio dei segni di soldi E sulle primi anni quindi è un po' difficile però imparerò senz'altro perché mi piace stare con loro Mi appassione Mi appassiona molto stare assieme a loro e prometto che imparerò quest'anno frequenterò il primo corso di Liss Buono 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 Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie.